Sampdoria zero, Inter zero, un paeggio serata veramente veramente imbarazzante sono molto molto amareggiato la partita è finita da pochissimi secondi ed è una partita veramente che segna un nettissimo passo indietro ovviamente dopo il derby segna ancora una volta le pessime, le brutte prestazioni che l'Inter sta fornendo contro squadre sulla carta più piccole sulla carta più abbordabili con le quali evidentemente subentra qualcosa a livello di motivazioni, a livello di cattiveria le altre partite si preparano da sole e le abbiamo fatte molto molto bene queste partite qui dopo Monza, dopo Empoli ma poi anche le vittorie con Verona, Parma non è che fossero arrivate senza problemi oggi ancora una volta contro un avversario che aveva segnato fin qui 10 gol in tutto il campionato con 10 punti fatti, sì loro hanno fatto la loro partita ordinata ma abbiamo fatto tutto noi male, cioè primo tempo dove comunque avresti potuto anche trovare il gol ma poi è subentrato il nervosismo, è subentrata la rabbia, è subentrata la frenesia tantissimi errori tecnici, una cosa imbarazzante la quantità di errori tecnici visti in una partita in cui, sì a me l'unica cosa che viene in mente è che a quest'Inter più che un allenatore, dirigenza, colpi, acquisti quello che vogliamo serve uno psicologo perché qui da una settimana all'altra cambia tutto ci si manda a quel paese, giocatori che si mandano a quel paese a vicenda poi dopo, la settimana dopo esce fuori sì, ci siamo parlati nello spogliatoio abbiamo detto che non bisogna fare più, una settimana va bene e poi si ritorna appunto a capo oggi è un passo indietro nettissimo e troppe cose non mi sono piaciute il gesto, Lukaku, Barella che sicuramente farà molto discutere magari faranno subito pace, domani sarà di nuovo punto a capo però il fatto sta che nel secondo tempo l'Inter è rientrata ancora più nervosa e sicuramente anche questo è inciso oggi è un pareggio che sa di sconfitta perché dovevi mettere per forza di cose dovevi scavare un solco rispetto alle altre oggi dovevi dire io mi vado a prendere il secondo posto voi fate il campionato per la zona Champions come volete e ancora una volta non l'hai fatto è sempre lo stesso problema ti viene quasi da dire che c'era proprio tutto il contesto per una gara di questo tipo ancora prima di vederla poi chiaramente arrivi da un momento positivo quindi comunque non te lo aspetti però è l'ennesima volta che l'Inter fallisce l'obiettivo non un obiettivo concreto come un trofeo come un passaggio di turno ma un obiettivo comunque importante perché l'abbiamo detto consolidare il secondo posto diventa importante anche nell'ottica poi del percorso Coppa Italia Champions League perché ti consente di avere un minimo di tranquillità in più cioè non è possibile che lo sappiamo noi tifosi e non lo capisce la squadra quanto è importante metterti in sicurezza anche in un secondo posto che non ti fa alzare un trofeo ma non conta in questo momento la cosa grave come dicevi è che appunto c'erano tutte le basi per poter vincere questa partita il primo tempo non è partito male cioè io ho visto un Inter comunque che ha messo dei presupposti per fare gol però fin dal primo minuto arrivando fino al novantesimo ci serviva capire se anche la ripresa sarebbe stata in un certo modo oppure no si sono visti una serie di errori inaccettabili proprio non tecnici perché hai la giornata no perché sbagli la giocata ma perché non ci sei con la testa secondo me con la testa cioè di Marco per dire mi sbaglio a due tiri che normalmente fa bene ma quello è un errore tecnico ma io ho visto degli errori da Lautaro da Cialanoglu di testa cioè arrivi lì e dici vabbè toh e passi la palla così e no e non va bene cavolo l'esempio di questo Simo è quella palla centrocampo per Cialanoglu che va a stoppare il pallone e gli passa sotto la suola quello è proprio l'esempio del giocatore che con la testa è altrove in quel momento ma lui come tutta la squadra sì o anche Lukaku nel primo tempo gli arriva un pallone può andare diretto su Lautaro che c'è spazio non lo fa va bene punta l'uomo va sul destro poi Lautaro attacca il primo palo lui mette un cross con il destro lentissimo a rimorchio dove non c'è nessuno cioè vuol dire che non sei concentrato ma non te lo puoi permettere di non essere concentrato è inaccettabile veramente oggi tolti i difensori che non hanno avuto nemmeno troppo lavoro sono tutti sotto il 6 ma ampiamente secondo me sul tema dei difensori Simo perché i giocatori hanno tante responsabilità io mi aspettavo a proposito di responsabilità che qualcuno se le prendesse queste responsabilità e che trascinasse la squadra a vincere la partita perché con tutto il rispetto con la Samp puoi anche prepararla male ma in qualche modo devi sfangarla in qualche modo devi portarla a casa e il giocatore deve trovarti la giocata decisiva in qualche modo nessuno lo ha fatto va bene il mister di sicuro ci ha messo del suo secondo me in questo pareggio in negativo anche qui una partita le scelte prima della gara dicevamo i tre difensori dietro tutti e tre molto fisici sarà per andare ad avere questi la Samp metteva un trequartista e due attaccanti ci aspettavano molti uno contro uno magari molte situazioni di gioco in questo modo qua invece la Samp davanti non ha creato nulla e chiudere la partita di nuovo con tutti e tre i difensori lì dietro blindati lì francamente non l'ho capito cioè tre giocatori nessuno dei quali molto abile nella costruzione anche De Vrij ha toccato tanti palloni ma solo per giocarli da destra a sinistra niente di clamoroso tenere Acerbi lì sì Acerbi ha dato tanto anche alla fine si è proposto in avanti però bastone è un'altra cosa ma comunque io questa partita la devo vincere metto i tre attaccanti non sto a tenere tre difensori tre stopper blindati sempre lì dietro e quindi non hai preso gol stasera dopo tantissime partite in cui lo stavi subendo di continuo ma dall'altro avevi da un lato avevi il peggior attacco d'Europa di fronte quello della Samp e comunque hai pareggiato 0-0 io francamente le scelte del mister stasera molto conservative a un certo punto ho avuto più paura di perdere che voglia di vincere secondo me in parte condivido in altra parte io penso che 1-0-0 contro la Samp non possa essere colpa di Inzaghi cioè nel senso che lui ha impostato una partita dicendo cavolo con tutto il popò di attaccanti e di potenziale che ho il gol me lo fanno poi io dico a metà partita fai i cambi diciamo decisivi nel dare la sterzata ovvero Brozovic, Dzeko, Dumfries non arrivano al 10 di valutazione complessiva se li metti insieme tutti e tre Dumfries poi non ne parliamo anche oggi è un tratto scazzato cioè Inzaghi può fare questo può mettere Dumfries per Darmian può mettere Dzeko per Lukaku non può mettere o far bere la pozione magica di Space Jam a Dumfries e farlo diventare Hakimi certo anch'io anche per me stride un po' rimanere con la difesa 3 fino alla fine così come giocarti l'ultimo cambio Carboni al novantesimo ormai l'ha giunto però io non riesco sinceramente a dare la colpa ma non a Inzaghi all'allenatore in senso lato quando c'è in un senso generale quando c'è una partita di questo tipo soprattutto quando vedo Lautaro che all'ultimo secondo non mi tira in maniera inspiegabile Lukaku e Barella che nel primo tempo pensano a insultarsi reciprocamente cavolo però in questo Simo io su questo non sono d'accordo con te nel senso che io allenatore cioè se la partita col Napoli col Milan e l'Atalanta si prepara bene da sola l'allenatore fa le sue scelte fa le sue tattiche e la porta a casa perché i giocatori sono più forti la partita si prepara con la motivazione giusta in queste partite qui tu allenatore però mi devi lanciare dei segnali cioè io squadra devo recepire dei segnali da te allenatore segnali del tipo Barella scazza Lukaku fa il fenomeno insulta la difesa è troppo bloccata piuttosto butto dentro Zanotti butto dentro Carboni e butto dentro chiunque Fontana Rosa chiunque Farris il vice allenatore ma non chiudo la partita con quello che si sfancula con il cambio ruolo per ruolo per me il messaggio che lanci è di un allenatore che ho la mia idea ho la mia idea ho la mia squadra ho i giocatori che sanno fare questo ruolo cambio la partita un po' come i ragazzi che giocano quando giocavo io almeno da piccolo col FIFA giocavo così che il cambio lo facevo ruolo per ruolo per cambiare la partita invece tu devi avere il coraggio e anche l'autorità poi di giustificare la scelta il giorno dopo e le settimane dopo di dire Barella tu stai scazzando così vai fuori gioca il ragazzino Lukaku tu stai facendo queste cose sei il più forte sei il più pagato va bene però stasera stai facendo così mi generi ansia ti cambio e gioca l'altro ma il problema è che lo stesso Inzaghi poi va a generare ansia secondo me in questo tipo di situazioni per cui io ripeto è un giudizio sulla partita non è un giudizio non vuole essere un giudizio totale come tanti prendono uno spunto per poter dire questo sulla partita di stasera secondo me i messaggi che lancia l'allenatore in questo caso non hanno di sicuro attenuato quel nervosismo che c'era in squadra e io mi aspetto che un allenatore soprattutto all'Inter lo sape fare però ti dico due cose la prima è che il messaggio che Inzaghi lancia con la formazione iniziale è un messaggio di attenzione perché comunque per esempio anche a centrocampo si parlava Brozovic alla gara giusta per fargli rimettere minuti evidentemente Brozovic non era al meglio Inzaghi dice non rischio riparto con i miei soliti prima cosa seconda cosa noi diciamo queste cose che tu dici che possono anche essere condivisibili a fronte di Samp Inter 0-0 al novantesimo con le scelte che abbiamo visto aver preso ma se noi torniamo indietro e al quarantacinquesimo vediamo Inzaghi togliere Lukaku e Barella per mettere i due ragazzini e finisce 0-0 non siamo qui a dire bravo Inzaghi hai avuto la personalità di fare questi cambi siamo qui a dire oh ma che cacchio fai capito perché la stessa cosa è successa a Udine ti ricordi al trentesimo fuori Mkhitaryan e Bastoni là c'era il discorso dell'ammunizione vabbè però il discorso secondo me è questo questo non per dire che Inzaghi non abbia delle colpe perché sicuramente ha dei limiti che ormai sono evidenti l'identikit mentale di Inzaghi ormai dopo due anni lo conosciamo perfettamente quello che dico io è che vedendo l'atteggiamento della squadra io mi incazzo come una bestia con i giocatori perché palesemente tutti abbiamo notato che almeno metà di quelli che oggi erano in campo erano in campo con lo scazzo e questo non va bene poi uno potrebbe dire vabbè ma Inzaghi deve dargli la fiamma per togliersi lo scazzo ok però l'errore di base è che tu non puoi entrare con lo scazzo se hai già perso sei partito di campionato e sei indietro cioè devi avere la responsabilità di non farlo per come la vedo io altre partite in cui invece tipo Inter Empoli l'abbiamo detto mille volte lì si stava giocando ancora benino tu mi vai a rimettere la difesa a tre mi incasini con Bellanova lì io l'ho detto subito l'80% della colpa è di Inzaghi se Inter Empoli è finita così l'altro 20% di Skriniar oggi ha le sue colpe indubbiamente ma io cioè quando vedo i giocatori che fanno così io mi incazzo con loro ma è una opinione via eh ci va anche Red ma questo è questo è fuori da ogni dubbio cioè giocatori che alla prima buona partita ti chiedono 7 milioni di euro di ingaggio poi non mi puoi presentare una prestazione come quella di stasera dove lo stesso Lautaro oggi purtroppo abbiamo rivisto il Lautaro che forse non abbiamo mai visto questa stagione perché il Lautaro ha anche delle 8 7 partite consecutive che in cui non aveva segnato comunque aveva dato tutto invece oggi l'ho visto sì ci ha provato ma anche l'ultima occasione cioè si è girato quattro volte non ti riporta gli sfondi la porta appunto anche c'è la Noglu al limite dell'area Simo un flash di mediazioni sì il primo tempo qualcosa si è visto Lukaku era partito subito bene al secondo minuto con un tiro centrale poi c'è la Noglu sia nel primo tempo che nella ripresa ha fatto due o tre tiri finiti tutti a fil di palo timidissima la Samp con un paio di situazioni non particolarmente pericolose Darmiana alto di poco al diciannovesimo poi nella ripresa i primi 10-15 minuti c'è l'impatto di Di Marco che ha due situazioni dove secondo me per come lo conosciamo può fare meglio in particolare il cross dalla destra dove lui calcia al volo e calcia fuori al sessantesimo poi dal sessantesimo al settantasettesimo non succede nulla c'è una parata poi di Audero su Ciaranoglu Di Marco su punizione a calcia alto ancora Ciala all'ottantaduesimo una delle occasioni più importanti calcia da fuori a fil di palo e poi l'occasione veramente più grande è il miracolo di Audero su Acerbi al novantaduesimo un missile da fuori parata traversa e lì c'è anche un pizzico di fortuna da parte di Audero per la Samp però non una partita dove il mio foglio esaurisce gli spazi come è successo a lungo l'anno scorso no anche perché tante occasioni sono tramontate nell'ultimo passaggio oltre a non essere andati al tiro anche Cialanoglu ha avuto un'occasione che si è spalancata la porta la passata a destra varie situazioni simili cioè non c'è stata la cattività di andare a vincere questa partita sui singoli oggi penso che si salveranno in pochi Gosens non mi è piaciuto per nulla sinceramente a sinistra Di Marco non è che sia entrato molto meglio anche se sicuramente è cambiata l'inerzia della partita col suo ingresso Lautaro l'abbiamo detto Dzeko è entrato molto male Ciala è calato poi col finale ha commesso tanti errori Barella mi stava piacendo nel primo tempo perché ero praticamente ovunque poi tanto 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 nervosismo e dietro vabbè non sono stati nemmeno impegnati davanti Lukaku mi stava piacendo però inevitabilmente in una partita così poi lo rimandi per come per come va a finire non so se salvi qualcuno tu Simo i tre difensori perché non hanno dovuto fare nulla solo questo dal mediano in su sono tutti dal cinque e mezzo in giù chi più chi meno però a fronte di come è andata la ripresa non riesco a vedere veramente nessuno sul sei per come la vedo io a parte arriveranno poi le pagelle brutta partita stasera dove rimettiamo in discussione una classifica una corsa al quarto posto che deve essere il nostro obiettivo in questo momento che invece oggi potevamo chiudere Napoli dopo questo turno ha quota 59 15 punti di vantaggio quindi sulla nostra Inter seconda l'Atalanta insieme a Roma e Milan ha quota 41 la Lazio a 39 quindi l'Inter in questo momento è seconda con tre punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici la Lazio è 5 punti più indietro questa è la classifica adesso potevamo essere sicuramente più in alto due punti più in su più su potevamo staccare la Lazio definitivamente e le altre comunque mettere un bel solco invece ancora una volta se cercate l'ufficio complicazioni cose semplici suonare ad appiano gentile iscrivetevi al canale mi raccomando e vi aspettiamo ovviamente poi nel club di Passione Inter per partecipare alle pagelle dei tifosi